Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Fairy ASMR grazie per aver scelto questo video rilassante oggi voglio mostrarvi che cosa c'è nel mio beauty case da viaggio in realtà saranno due gli astucci che vi mostrerò e spero che questa tipologia di video vi tenga compagnia ma soprattutto che serva a rasserenarvi, a calmarvi e ad accompagnarvi verso la buonanotte come al solito se l'idea di questo video ti piace fammelo sapere lasciando un mi piace e se per caso non sei ancora iscritta o iscritto puoi farlo cliccando sul pulsante qui sotto e soprattutto sulla campanellina per non perdere i prossimi video sullo sfondo puoi vedere anche Gessino che riposa e infatti è piuttosto tardi e anche lui ha già sonno speriamo che l'SMR faccia effetto anche su di lui e che questa notte mi lasci dormire tranquillamente chi di vuoi ha un gatto forse potrà capirmi ma bando alleciange iniziamo subito con il video fra 3, 2, 1 eccomi non so precisamente quando vedrete questo video ma per la mia partenza estiva in Grecia ho scelto di portare praticamente solo l'essenziale in particolare ho questo astuccio bellissimo olografico nel quale ho inserito tutto il make up poi ho questo astuccio più grande nel quale ho inserito i prodotti di Skincare e quello per i capelli e infine quest'altro astuccio per i medicinali che però non vi mostrerò mostrerò solo i primi due astuccio comunque anche questo fa un bel suono poi forse potrete vederlo a tutti i cuoricini qui anche questo è sui toni del rosa ma iniziamo con il make up allora la pochette in questione è questa l'ho acquistata da H&M e mi ha colpito subito per il colore naturalmente l'effetto olografico ma anche per il fatto di presentarsi compatta è abbastanza rigida vi mostro il contenuto quando viaggio non mi piace portare prodotti di altissimo valore con me perchè temo sempre che possano andare perduti però c'è anche belle cerco di portare comunque i prodotti con i quali mi trovo meglio per prima cosa un cushion questo lo avete già visto nel video dedicato alla Skincare coreana di un po' di tempo fa che se riesco vi leggo qui sopra questo è una sorta diciamo di BB cream o fondotinta molto leggero perchè d'estate è praticamente impossibile per me indossare il fondotinta però magari per la sera può andare bene questo ha un fattore di protezione SPF 50 plus ed è nella colorazione 0.3 perchè anche se non mi abbronzo facilmente magari prenderò un po' di sole in mancabile correttore immancabile correttore questo è di Eofidra utile per camuffare eventuali rossori poi sempre un prodotto coreano di Peripera questa tinta per labbra e guance Ink Velvet che utilizzo spessissimo è rossa ma una volta sfumata diventa rosa ovviamente poi 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 vediamo ho deciso di portare queste tre tinte per labbra o rossetti di godina e questo è di Wicom ed è un Malva il numero 92 Wicom Long Lasting Liquid Lipstick questi altri due sono di NYX vedete questo è un rosa molto chiaro e questo è un colore mattone anche se dalla fotocamera sembra più chiaro quello più scuro è Libri numero 12 sempre per quanto riguarda i rossetti è questo abbastanza vecchio devo dire la verità ma ancora non è finito e mi piace tanto ne è rimasto poco poco e credo fosse della Maybelline è un profumo buonissimo di confetto e mi piace molto perché inizialmente è un nude con un sottotono grigiostro ma col tempo diventa rosa è anche molto molto duraturo poi questo mascara l'ho acquistato da Essence appositamente per la vacanza volevo volevo un mascara nuovo che fosse incurvante e volumizzante e questo è il Lush Princess False Lush Effect mascara non ho idea se sia waterproof oppure no però penso di no questo questo non lo apro perché non voglio che entri l'aria all'interno del prodotto però guardate che carino questo disegno in forma di corsetto in rilievo dilaggio di corsetto come vedi sto prelevando i prodotti in maniera abbastanza casuale questo è un primer che adoro che tra l'altro quasi è terminato è il Purfessional di Bellevut non so se l'utilizzerò non so se l'utilizzerò ma per sicurezza voglio portarlo ma per sicurezza voglio portarlo poi abbiamo un temperamatite e tre matite per gli occhi questa nera di Purpio questa color caffè di Wagon perché stavo cercando di capire come si chiamasse ma non trovo il nome comunque eccola è un marrone freddo e la mia preferita del momento che è questa di Neve Cosmetics ed è la pastello nella colorazione pioggia che è una tortora grigio tortora più o meno bellissima eccola vorrei farvi ascoltare il suono del temperamatite ma tutte le matite sono tantemperate pazienza per finire ho un ombretto occhi di Nabla che ha sempre un colore tortora questo si chiama dreamer neanche farlo opposto eccolo il colore è questo molto carino secondo me secondo me ok infine la mia inseparabile cipria in polvere di puro bio indissoluble silky powder questa è se non erro la colorazione più chiara ah dimenticavo per quanto riguarda i pennelli porterò solo un piccolissimo set da viaggio che è quello di Kiko viola se riesco a inserire una foto ve la metto magari qui così ecco svuotato il primo astuccio ipnotico se vuoi vedere anche che cosa c'è nell'altro astuccio continua a tenere gli occhi aperti se ce lo fai so che è molto difficile perchè questa tipologia di video fa veramente addormentare in maniera veloce comunque eccolo qui bello pieno vediamo un po' che cosa ho deciso di portare partiamo con il deodorante ho trovato questa confezione piccola di questa marca EMA il profumo di questo è abbastanza neutro sa di talco poi un profumo che ho da tantissimo tempo in realtà è un'acqua profumata questa credo la troviate anche da OVS ed è un'acqua profumata al cocco buonissima è un'odore paradisiaco sa proprio di estate di creme solare lo spruzzino lo spruzzino però mi sa che è andato questa l'avete vista veramente tante volte sul mio canale perchè l'ho portata in diversi video una crema solare che devo terminare che devo terminare che devo terminare protezione 50 più ovviamente viso e corpo è una marcata super marcato niente di eccezionale però devo terminarla e quindi porto questa ho uno struccante più basico ho uno struccante più basico in questo formato mini che fa proprio un bel suono viola come lo sfondo e diversi dischetti struccanti anche se chi mi segue su instagram sa che ho eseguito da pochissimo il trattamento di laminazione alle ciglia e non sapete di che cosa si tratta vi rimonto alla mia pagina instagram dove vedete le foto del prima e del dopo per apprezzare un risultato veramente eccezionale secondo me e dicevo avendo eseguito questo trattamento ho scoperto che non posso utilizzare uno struccante oleoso sulle ciglia per le prossime settimane motivo per cui mi avverrò di un pacchetto di salviettine struccanti mi piacciono molto i crinkle sounds però pure sono un po' forti che ne dite? poi andando avanti ho portato diversi campioncini e se ti piace il suono dei campioncini se ti piace c'è un video delegato solo questo sul mio canale comunque si tratta di campioncini di crema questo è all'acido ialloronico a doppio peso molecolare e da teleofidra e detergente viso gel esfoliante viso sempre di ufidra poi abbiamo un dolce schiuma neutro al profumo di talco adoro il tappic adoro il tappic poland da viaggio per capelli per capelli e lo esenti eh con lo specchietto incluso dobbiamo fare un po' di brushing fatemi sapere se c'è qualche oggettino tra quelli che vi mostro che vi piace particolarmente come trigger scrivetemelo nei commenti poi un prodotto per i capelli cristalli liquidi è molto valido questo ed è dell'equilibra non so dove sia il tappino dettagli comunque questo è molto buono non unge i capelli ma li protegge dalla piastra infine abbiamo il balsamo per i capelli anche questo ha un profumo buonissimo non è un balsamo di particolare valore quello che si trova all'interno delle denture per capelli dell'Oreal e l'ho rubato a mia madre però fa veramente un bel effetto sui capelli è molto districante e naturalmente lo shampoo l'ho preso in qualche albergo ha un buon profumo non male fatemi sapere se anche voi prendete i campioncini tagliatello piccolo dentifricio rasoio e lima per le unghie e in ultimo crema per le punture delle zanzare che spero non ci siano ma a me impungono sempre quindi bene questo era tutto fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa e fatemi sapere che cosa portate voi nei vostri video di case da viaggio se vi piace viaggiare più leggeri oppure se non riuscite a non portarvi dietro tutto a casa se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un bel like provarmelo a sapere soprattutto di lasciare un segno del vostro passato con un commentino un pensiero felice e noi ci vediamo come al solito se vi va nel prossimo video bacini patosi